Incidente sul lavoro ad Orta di Latella dove un operaio di 60 anni è morto sembra causa del ribaltamento del cancello d'ingresso di un capannone industriale. L'uomo sposato con tre figli lavorava per una ditta di San Felice a Cancello operante nel settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale e risiediva a Santa Cata dei Goti nel Beneventano. Pare che stesse per chiudere il cancello quando questo gli è caduto addosso. In seguito all'incidente la procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto il trasferimento della Salma all'ospedale San Giuliano di Giuliano per l'esame autoptico. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura stessa a chiarire le cause dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro dall'inizio dell'anno. La dinamica comunque sembra abbastanza chiara. Secondo gli inquirenti a causa di un malfunzionamento del cancello questo sarebbe uscito fuori dalla guida binaria. Il sessantenne si aggiunge tristemente alle altre 20 vittime registrate dall'inizio dell'anno in Campania portando la regione in zona rossa.